Per me la classe Jaguar è una macchina fantastica, come dice mio fratello, la campagna dura ma la class fa paura. Sono Orsanelli Massimo, proprietario con mio fratello e i miei figli di questa azienda agricola e conto terzi agromeccanica Orsanelli. Abbiamo due Lexion, abbiamo anche una serie, una gamma di sei trattori class. Come Jaguar eravamo partiti dalla 860 arrivando oggi la 980. I biogas sono quelli che ci impongono di più a mettere sotto torchio la macchina perché è un conto trinciare a un centimetro o un centimetro e mezzo, è un conto trinciare a 0,4. E addirittura con questa macchina la 980 con 36 coltelli fai ancora meno fatica a avere un taglio più corto con maggiore produttività. Poi una macchina del genere non ha tanti problemi con 800-900 cavalli. La macchina è una novità e certo non puoi paragonare al modello prima. È una macchina completamente diversa nell'idraulica, diversa nell'introduzione, una barra completamente diversa. Si comporta bene anche la barra nuova nel mai sporco di infestanti, erbacce. Sì poi anche il sistema nuovo di raffreddamento, Dynamic Power che veramente ti abbassa i consumi. La macchina tecnicamente è validissima. Il comfort con la barra a terra, con le ruote in flottante è fantastico. Sì sì, è come viaggiare su una vettura. Non senti niente, sembra che galleggi, sembra staccata da terra. La macchina ha sempre dato soddisfazioni eccellenti. La qualità del trinciato è ottima, anzi i clienti sono soddisfatti. Il cliente chiede solo classe. I nostri clienti se non vai con la classe ti dicono cambia macchina.